Musica Nuova puntata di reportage, nostro ospite è il sindaco di Agrigento Marco Zambuto, a cui diamo il benvenuto. Buonasera. Sindaco, questa volta le domande non gliele farò proprio io, ma gliele faranno i cittadini. Noi siamo andati in città, abbiamo fatto un sondaggio, abbiamo domandato cosa manca alla città di Agrigento. Ecco che cosa è venuto fuori, lo vediamo insieme questo contributo e poi ne parliamo. Con piacere. Cosa manca all'Agrigento? Anzitutto manca il lavoro per i giovani. E poi mancano le strade perché non sono riparate, ci sono molti buchi. Insomma è una città che dovrebbe essere più coltivata anche per quanto riguarda il settore del verde. Più verde, ma non solo verde, verde fatto in un certo modo per i bambini, quindi anche un verde sicuro direi io, perché le mamme spesso, anche se io ormai le figlie ce le ho grandi, spesso vorremmo portare i bambini in un posto che non sia solo verde ma anche sicuro, cioè non scivoli che finiscono sull'asfalto e quindi con il rischio di portare all'ospedale i propri bambini o insomma giochini che siano, ormai non ne mancano, ce ne sono di tutti i modi, che siano sicuri oltre che carini. Ma più parcheggi per essere più sfruttabili nel centro, perché se no così il centro rimane sempre perché non ci sono parcheggi. I parcheggi c'è il multipiano che ora è partito quindi ci saranno presto. La piazza Vittorio Emanuele, che ci sono tutti i marciapiedi addirittura di Velti, si rischia di cadere, di ingiampare possibilmente e di rompersi le gambe, non fa niente bene. Cosa manca ad Agrigento? L'imbrassottura, sono importanti per questa città, anche perché è una città turistica. Agrigento è una bella città, che se ne dica, come viene anche conosciuta nel mondo. I templi, ora anche il centro storico che sta per essere valorizzato, però manca forse la mentalità della vocazione turistica vera e propria. La vocazione turistica non si fa soltanto facendo vedere i templi oppure facendo vedere le bellezze. La vocazione turistica si fa sapendo anche trattenere i turisti quando vengono a trovare la nostra città, quando vengono a visitarla, e quindi dando loro un incendio anche a ritornare. Secondo me è questa la vocazione turistica. Manca pulizia, manca un po' di coscienza civile da parte di tutti. Il traffico, mancanza di posteggi e quindi l'acqua. Già ci conviviamo con la carenza idrica, perché è addirittura la mezzo secolo che dura questa carenza, quindi siamo quasi abituati. Ci vorrebbe addirittura un colpo di coda per fare questa rete idrica, se è vero come è vero che è una rete idrica, addirittura con la brodo, per fare, insomma, per aggiustarla questa rete idrica e per consentire al cittadino di avere quel bene assoluto che è l'acqua. Sì, ma non c'è bisogno di fare esempio, guardi, guardi, tutto. E da due anni che stanno attenti a queste cose non fanno niente. C'è poca manutenzione. Per esempio, andando verso il centro storico, ci sono dei quartieri antichi da recuperare, e sono in tuffo arenario e c'è l'abbandono totale. E io, secondo la mia opinione, ci saranno delle nuove crolle, delle nuove cose. Aggregendo purtroppo il centro storico è stato abbandonato e i crolli ne sono la testimonianza. Sotto il viale della Vittoria c'è un muro fatto in tuffo. Questo muro ormai è una vetustà, è vetusto. Nessuno ci mette una pietra, anzi hanno messo delle piante che questi corrodono il tuffo. Quindi è la manutenzione che manca. Allora, la prima problematica che è venuta fuori da questo sondaggio è la mancanza di lavoro per i giovani. Voi vi state attivando in quale maniera? Purtroppo viviamo un tempo nel quale l'economia globale pone questo tema, quello della mancanza di occupazione per i giovani, che è il grande vero dramma di questi tempi. Cosa abbiamo fatto? Quello che era nelle nostre possibilità fare, sicuramente, come dire, poco rispetto a quella che è l'enorme richiesta di lavoro. Non abbiamo perso tutte le opportunità che, per esempio, vi erano per fare i cantieri scuola. Nella nostra città siamo riusciti a fare 10 cantieri scuola che hanno dato, diciamo, da lavoro a più di 100-130 lavoratori. A questo dobbiamo aggiungere le borse lavoro che siamo riusciti anche ad attivare e che hanno anche queste, sono riuscite a dare lavoro a più di, nella città di Agrigento, diciamo, più di 60 persone per poi anche dover aggiungere tutti gli operatori che hanno lavorato nei paesi del distretto sociosanitario. Questo, diciamo, come risposta immediata. Dopodiché il Comune ha dato la disponibilità piena sempre rispetto alle iniziative di natura privata che sono venute avanti, soprattutto questo nel terzo settore, nel settore della solidarietà sociale, per, diciamo, riuscire a dare occasioni di lavoro a giovani impegnati nell'assistenza, nell'assistenza agli anziani, ai minori, ai disabili. Mi rendo conto che rimane fuori, mi rendo conto che rimane fuori una grandissima fetta di giovani, di studenti. Anche laureati. Di laureati, che purtroppo, non trovando poi lavoro dalle nostre parti, sono costretti ad andare via. Ma in questo senso vi devo dire che veramente oggi i comuni possono fare molto poco. Quello che possiamo fare sicuramente è sbloccare tutto quello che c'è da sbloccare, per esempio, sul fronte dei lavori pubblici per riuscire a mettere in circolo un'economia che ti riesce poi a dare lavoro. E in questo senso tutto quello che noi potevamo fare, ecco, lo abbiamo fatto nell'andare a sbloccare da un lato vecchi progetti che erano bloccati nella nostra macchina comunale, dall'altro lato siamo stati proprio noi a fare i progetti rispetto ai quali oggi attendiamo i decreti di finanziamento. Tra le altre problematiche sollevate, quella dei parcheggi, dunque per un traffico più fluido. Voi come state provvedendo in tal senso? Essere riusciti a sbloccare il parcheggio pluripiano di Piazza Rosselli sicuramente darà una boccata d'ossigeno all'economia cittadina. Questo è assolutamente un fatto positivo, che siamo riusciti a sbloccare una vicenda che era, diciamo, che parte addirittura più di 30 anni fa, che poi nei meandri della burocrazia si blocca, siamo riusciti a sbloccare, siamo riusciti ad affidare, diciamo, come project financing, cioè oggi sarà un privato che svolgerà ed effettuerà i lavori nella costruzione di questo parcheggio. Questo rappresenta una boccata d'ossigeno importante per tutta l'economia. È sicuramente una boccata d'ossigeno importante per il traffico e per la circolazione stradale nella nostra città. Ma io voglio ricordare anche, per esempio, come una boccata d'ossigeno in questi mesi importante sia riuscita a darla il parcheggio di piazza stazione. La convenzione che abbiamo fatto con le ferrovie dello Stato ha fatto sì che il parcheggio, appunto, che vi è sotto piazza stazione è riuscito a diventare, appunto, il riferimento di un'area importante per la città, per cui le persone vanno a posteggiare lì e salgono, diciamo, poi al centro città. Mi rendo conto che anche lì abbiamo bisogno di altri parcheggi. In questo senso, per esempio, i parcheggi di Via Gioieni, noi li abbiamo messi dentro il piano triennale delle opere pubbliche e anche lì partiremo perché vengano realizzati con il sistema del project financing. Tra le altre problematiche sollevate dai cittadini, quella di strade fatiscenti, con delle buche che sembrano delle vere e proprie voraggini, ma ovviamente servono dei fondi, servono dei finanziamenti. Voi come state provvedendo per rifare il lucca alla città? Guardi, le nostre strade non vengono asfaltate generalmente dal 1992. Addirittura abbiamo quartieri, da un lato vedi Fontanelle, che fu asfaltata intorno agli anni 80, parliamo 1984 circa, e poi non venne più toccata. Ecco, il problema, il dramma vero di questi anni, diciamo, di mia amministrazione, il dramma vero è stato quello della mancanza delle finanze, la mancanza delle risorse finanziarie, che penso io oggi, alla luce di quanto sta accadendo in Italia e in Europa, è il vero problema ed è il primo punto nell'agenda politica globale. Perché dico questo? Negli anni passati sostanzialmente si amministrava, si facevano i debiti, tanto poi, diciamo, i debiti si sarebbero pagati non so quando, o li avrebbe pagati chi sarebbe venuto dopo. Io mi sono venuto a trovare nel momento storico in cui, da un lato non ho potuto fare più debiti, dall'altro lato mi sono venuto a trovare nella condizione di chi era quello che poi avrebbe dovuto pagare i debiti che erano stati fatti da tutti gli altri. Sostanzialmente il tema politico vero è questo. La gente queste cose ovviamente non le sa e pensa che siano delle responsabilità vostre, o cattiva volontà. Io comprendo che queste cose la gente non le sappia, ma voglio sottolineare come, tenendo conto come primo punto dell'agenda politica il tema finanziario, perché voglio sottolineare come se noi non avessimo tenuto i conti in regola in questi anni, pagando più di 26 milioni di euro di debiti in questi quattro anni e mezzo, mentre dall'altro lato lo Stato e la Regione ci toglievano trasferimenti, perché venivano ridotti ulteriormente i trasferimenti, dicevo se non fossimo riusciti a tenere fronte a questa grande mole di debitoria, la situazione sarebbe saltata in aria e secondo me avrebbe anche compromesso l'ordine civile nella città di Agrigento. Grazie al Comune di Agrigento tanti fornitori, tanti creditori non sono saltati in aria, non sono andati in default, per usare un termine molto usato in queste settimane. Per dire come siamo riusciti a tenere in piedi un'economia, che chiaramente tenere in piedi un'economia in un tempo in cui poi devi rispettare altri vincoli, il patto di stabilità, poi non fa altro che non poterti dare le risorse e avere grandi problemi nell'andare a fare quei servizi che i cittadini vedono immediatamente, quindi le strade, quindi le buche, quindi i marciapiedi, quindi i servizi per esempio per i bambini. Guardate, io mi sono trovato in una condizione in cui ho dovuto tagliare tutto quello che c'era da tagliare, perché sennò saltava in aria tutto. Cioè noi ci siamo trovati in una condizione in cui o decidevamo di continuare come si era continuato nel passato e questo ci avrebbe portato sicuramente già qualche tempo fa a fare saltare in aria tutto, però io, come dire, dopo essermi preso l'impegno con la mia città, un impegno che si è rivelato molto più gravoso rispetto a quello che uno, diciamo, poteva immaginare nella migliore delle ipotesi, dicevo non mi sono sentito proprio per un grande senso di responsabilità nei confronti della mia città di fare scelte diverse da quelle che ho fatto, che sicuramente mi possono causare, come dire, impopolarità, ma sicuramente nel lungo periodo sono quelle scelte che portano bene a una comunità, cioè che non ti fanno saltare in aria da un punto di vista finanziario. E noi abbiamo fatto, abbiamo agito come agisce ogni buon padre di famiglia, nel senso che hai oggi i soldi per poter calare la pasta e mangiare bene, non puoi andarti a comprare il paio di scarpe perché bisogna rinunciare. E purtroppo, devo dire, noi in questi anni abbiamo agito in questi termini, cioè dandoci delle priorità e poi man mano andando facendo le cose che era possibile fare. Paradossalmente, Sindaco, come diceva un signore tra questi che abbiamo intervistato, quando però gli interventi di manutenzione vengono fatti, poi ci si lamenta perché magari ci sono dei cantieri aperti, disagi al traftico. Per esempio in Via Tenea quel signore simpatico diceva c'è un cantiere aperto, ma quando finiranno questi lavori aprono, riaprono, chiudono. A che punto sono questi lavori? Tranquillizziamo la cittadinanza, soprattutto per quanto riguarda la Via Tenea, il salotto buono della città. Guarda, io per esempio voglio ricordare come i lavori della Via Tenea siano stati fatti alla mia amministrazione e siano stati fatti con gli operai comunali. e sono state una delle prime cose che abbiamo fatto, perché la Via Tenea era completamente impraticabile, anche questo parliamo di lavori che erano stati fatti negli anni Ottanta e che poi non fu più toccata nel tempo. Siamo andati a recuperare con le nostre forze di uomini e di mano d'opera. è chiaro che si tratta sempre di una manutenzione continua che tu devi riuscire a garantire. Il punto del problema è che hai una condizione della città in tutti i quartieri che si presenta in certi casi così, in certi casi peggio, per cui tu ogni giorno hai una squadra di manutenzione che devi riuscire a portare laddove si presenta l'emergenza e il fatto che non hai risorse finanziarie adeguate per poter fare gare d'appalti, affidare a terzi anche questi lavori, è poi il limite che hai, perché poi il problema parte tutto da lì. Però, dicevo, nonostante i problemi di natura finanziaria, noi siamo riusciti a fare tante cose in questi anni. Siamo riusciti a riaprire il parco della Dolorata, siamo riusciti, quindi questo, a riportarlo alla città. Non abbiamo avuto il tempo per ridargli una funzionalità piena, nel senso di farlo vivere dentro la città pienamente. Però è una struttura, è un parco che finalmente è restituito agli agrigentini. E a proposito di questo, Sindaco, anche l'archivio notarile, che esteriormente è bellissimo, all'interno comunque c'è tutto da rifare. Siamo riusciti all'archivio notarile, siamo riusciti a restituire la biblioteca comunale, che era lì bloccata da più di 30 anni, siamo riusciti a riaprire la biblioteca comunale, sopra a fare l'archivio notarile. È chiaro che va, come dire, sistemato, sicuramente va arredato, ma per arredare, ecco, hai anche lì bisogno di risorse finanziarie. Siamo riusciti a riaprire il parco. Tutto ruota lì, insomma, i problemi sì. Il problema vero ruota lì ed è il problema, come vedete, di queste settimane, ed è il problema, purtroppo, con il quale ci dovremo misurare da qui ai prossimi mesi, alle prossime settimane. Ed è un tema assolutamente delicato, rispetto al quale, sapete, non c'è assolutamente da poter fare demagogia. Noi, io, sin dal primo giorno, proprio quando ho avuto la consapevolezza piena di quelle che erano le difficoltà, ho voluto dare un segnale. Quello di lasciare l'auto blu, quello di ridurre l'indennità di carica del 30% in questi anni, ha voluto proprio significare che i sacrifici li cominciavano a fare, prima di tutto, chi amministrava. Il primo cittadino. Prima di tutto il primo cittadino, proprio perché è consapevole di quelle che erano le difficoltà, i problemi che la città viveva. E questo, diciamo, è stato, ed è, purtroppo, diciamo, il leitmotiv di questi anni, sino ad arrivare a qualche settimana fa, anche in Consiglio Comunale, a proporre la riduzione del 50% di indennità, di sindaco, giunta comunale e consiglio comunale. Perché proprio se i sacrifici bisogna farli, bisogna che chi amministra li faccia prima che li facciano gli altri. Molti cittadini, in maniera abbastanza rassegnata, hanno sollevato il problema della rete idrica, dicendo però che ormai si convive con il problema dell'acqua da tantissimo tempo. L'acqua è un bene di tutti, un bene dal quale non si può prescindere. Guardi, sicuramente, io ricordo che appena mi sono insediato, vi era proprio il problema dell'emergenza idrica nel mese di giugno, di luglio del 2007. Una grande crisi idrica che portava l'acqua nelle case degli agrigentini ogni 10-12 giorni. Contenziosi con girgenti acque, responsabilità. Questo problema siamo riusciti a superarlo dal punto di vista della distribuzione. Abbiamo affrontato il problema, diciamo, sin dalla radice, cioè di dover andare a prevedere un nuovo progetto che andasse a rifare la rete idrica. I miei continui sali e scendi da Roma, poi finalmente a Palermo, il progetto viene approvato nell'ottobre, nel novembre del 2010, fino a quando poi nel dicembre del 2010 il governo della regione finanzia la rete idrica. Ad un anno esatto? Siamo ad un anno esatto. Praticamente poi il presidente della regione ci ha comunicato che i problemi relativi al finanziamento erano da addebitare alla mancata erogazione da parte del governo nazionale dei cosiddetti fondi FAS. ed è proprio di questi giorni che il governo regionale ha sempre deliberato, ha fatto un decreto utilizzando altri fondi per la rete idrica di agrigento e altri interventi, opere importanti in tutta la Sicilia. Questo decreto è alla registrazione alla Corte dei Conti, appena sarà esecutivo chiaramente potranno iniziare i lavori. Anche lì, ecco, si tratta di un intervento fondamentale anche storico per la nostra città. Vedete, il grande rammarico di questi anni da parte mia è stato quello magari di non avere più la vita che ho avuto fino al giorno del mio insediamento, magari non potere fare più una passeggiata in Via Tenea, perché gli impegni sono stati tanti ogni giorno, non ho avuto un attimo di tregua, ma soprattutto perché siamo andati ad affrontare i problemi fin dalla radice. Io mi sono trovato innanzi una città che era senza regole, e che soprattutto in cui la mancanza di regole aveva fatto sì che le emergenze stavano completamente facendo sprofondare la città. Dicevo prima il problema finanziario, è così accanto al problema finanziario il problema idrico. C'è una città in cui l'acqua ti arriva ogni 15 giorni. Ma come tu puoi prevedere di parlare di turismo, di circuito turistico? Dovete sapere che una delle prime mie visite fu ad un consolato a Palermo. Non voglio dire per ragioni di riservatezza e di opportunità il console che incontrai, ma quando appunto parlammo dell'ipotesi di fare venire la nostra terra, nella nostra agrigento, nel periodo invernale, diciamo gruppi che facevano parte di quel paese, il console la prima cosa che mi disse fu questa, mi disse sindaco, ma voi il problema, l'acqua c'è, sai, fu assolutamente imbarazzante, fu assolutamente una cosa che mi bloccò, perché io compresi come se prima di ogni altra questione non fossimo andati a risolvere problemi strutturali, problemi fondamentali che poi ti portano a poter parlare di tutto il resto, ecco allora non potevi parlare in termini di sistema, non potevi parlare né di turismo né di altro. Il dramma vero è che, come dire, la nostra città può fare da simbolo, ma è stato un costume, diciamo, di tutto il mezzogiorno d'Italia, fino a quando, diciamo, l'economia lo consentiva, e lo consentiva perché si facevano i debiti, allora noi, dico noi come cittadini, ci accontentavamo del fatto che la politica assicurasse o il posto di lavoro, il cosiddetto posto fisso, o l'assistenza, per esempio la pensione, e non ci occupavamo, non ci preoccupavamo invece dei servizi del territorio, dei servizi per la città, cioè abbiamo convissuto con un problema dell'acqua per più di 50 anni senza che nessuno alla fine facesse nulla di serio per questo tema. Un altro problema è quello del centro storico, che ci portiamo dietro da sempre, il centro storico non è mai cambiato, poi ci sono stati i crolli... Il punto è proprio questo, il centro storico crolla oggi dopo 50 anni di abbandono, quando c'erano i soldi, i soldi non si utilizzavano, perché non si aveva la sensibilità, perché non vi era, non solo da parte della politica, ma da parte del cittadino, un'attenzione, un'interesse, una volontà di andare a investire nel centro storico. A proposito, mi perdoni, del centro storico, lei ha gestito la questione crolli in maniera molto risoluta, che tipo di interventi state facendo per il centro storico? Questa è una domanda che ci hanno rivolto tante persone. Guardi, noi ci siamo trovati in un'anzione situazione, anche lì, catastrofica, in cui siamo dovuti intervenire per la gran parte su un patrimonio che è di privati e quindi, prima di tutto, ci siamo dovuti sostituire ai privati legittimi proprietari degli immobili fatiscenti che recano un pericolo alla incolumità pubblica, perché lo stesso problema si porrebbe nel caso di un immobile in un altro quartiere della città. Cioè, ma mentre in un altro quartiere della città, come dire, non c'è, non viene a nessuno da chiedere perché sia la responsabilità del comune, sulla vicenda del centro storico, quando invece ci troviamo al 90% di innanzi un patrimonio immobiliare ai privati, si vuole addossare la responsabilità al comune. Perciò, partendo dall'assunto che la gran parte del patrimonio è dei privati e il comune interviene in sostituzione e in danno ai privati stessi, abbiamo dovuto mettere in moto una macchina che ha tutti i limiti che può avere, che sono sempre i soliti. Uno, di risorse finanziarie, perché se tu devi sostituirti al privato e lo devi fare dovendo poi mettere in sicurezza, dovendo abbattere, diciamo, i pericoli che possono derivarne dal pregiudizio che se ne ricava dal crollo di un muro, di un palazzo, tu devi avere i soldi per farlo. E questo noi lo abbiamo fatto utilizzando, da una parte, fondi comunali, dall'altra parte fondi della protezione civile, più di 800 mila euro in questi anni. Abbiamo istituito la squadra di protezione civile che ha fatto un censimento in tutta la città e da lì siamo partiti per fare, prima di tutto, le comunicazioni e diffide nei confronti dei privati. Diffide nei confronti dei privati che tante di queste non hanno ricevuto alcuna risposta e allora in questi casi ci siamo sostituiti noi. In altri casi sono intervenuti i privati stessi. Questo è frutto di una situazione di abbandono, ma è frutto, è l'effetto di una scelta politica che fu fatta negli anni 80. Quando con il piano regolatore generale degli anni 80, l'anno 79 per essere precisi, si decise che la città dovesse espandersi a nord con Fontanelle, con San Giuseppuzzo, con San Michele, praticamente la scelta politica di quel tempo fu quella. Per cui, da un lato, dall'altro lato la scelta di andare a costruire a Monserrato e completare Villa Seta. In realtà, nella zona nord della città, le scelte politiche furono appunto quelle di portare in quei quartieri le cosiddette cooperative e quindi sono sorti lì tanti alloggi di cooperative sociali. Che hanno portato, da un lato, a un abbandono del centro storico, perché si privilegiarono quelle aree. Dall'altro lato, il cittadino che non voleva andare a nord della città, preferiva invece andare a sud, andare a mare, andare al villaggio Mosè, si andò a realizzare nelle zone del villaggio Mosè anche, come dire, espansioni spontanee, se così le possiamo considerare. Che quindi nel tempo hanno avuto bisogno delle sanatorie. E quindi, ecco, oggi noi ci troviamo con una condizione del centro storico in questi termini che è frutto di una politica urbanistica che fece quelle scelte che poi hanno portato questi guasti. E allora noi oggi siamo dovuti andare a intervenire, dicevo, prima affrontando l'emergenza, intervenendo, sostituendoci nei confronti del privato, poi affrontando il problema della riqualificazione. Noi abbiamo presentato più di 45 progetti, rispetto ai quali aspetto ormai solamente i decreti da parte della regione siciliana, che riguardano i fondi comunitari. Spero che la situazione internazionale, finanziaria, nazionale e internazionale, non faccia andare in fumo questi fondi. Me lo auguro, ma me lo auguro per la Sicilia soprattutto. Dicevo, e noi rispetto a questa vicenda siamo partiti anche lì dall'anno zero. Cioè, io mi sono trovato senza avere un parco progetti che abbiamo presentato, che abbiamo realizzato, progettato, e che prevede dentro il centro storico investimenti per più di 40 milioni di euro. Investimenti nella zona a nord del centro storico, quindi alla zona di San Gerlando, e nella zona a valle della via Tenea, con un percorso di piazze che parte da piazza Municipio e arriva a Santo Spirito per poi arrivare a Porta di Ponte. Da un lato e dall'altro lato sale appunto da piazza San Giuseppe, piazza Salena, via Serroi, per poi arrivare a Santa Maria dei Greci da un lato e dall'altro arrivare alla Badiola, via Neve, ecco proprio il quartiere storico della nostra città, Piano Palillo. Ecco, noi abbiamo veramente pensato, progettato la nuova città nel senso della riqualificazione. E le vostre priorità. Assolutamente, anche questo ha rappresentato uno dei punti nodali che abbiamo affrontato. Non possiamo non parlare dell'inchiesta che ha interessato gli uffici tecnici comunali denominata self-service. Lei in merito che posizione ha assunto? Con tutto il rispetto che io ho su un piano personale per le persone coinvolte, ma vedere le immagini che hanno visto tutti gli agrigentini, queste sono immagini che non possiamo assolutamente accettare. Non possiamo accettare che si vedano immagini di tazioni di denaro in un ufficio pubblico e che soprattutto vengano queste tazioni di denaro, come dire, siano la parte di uno scambio con un esercizio di una funzione pubblica che non prevede queste forme che sono assolutamente da abborrire nell'ordinamento non solo giuridico, ma in un ordinamento etico di comportamenti etico dentro una società civile. E allora, per quanto mi riguarda, nel massimo ecco della garanzia di una formazione garantista, non è possibile che su fatti di questo tipo ci sia il minimo di indulgenza. E io ho voluto proprio fare un'assemblea con tutti i dipendenti comunali nella quale l'assemblea fare firmare a ogni dipendente comunale l'impegno che il dipendente comunale ha in quanto dipendente di una pubblica amministrazione di determinati comportamenti e obblighi. Vedi, noi spesso, ecco, forse anche il fatto che si, non lo so, che si tratti, cioè si perde il senso, la dimensione del ruolo, della funzione che si esercita. E questo non è possibile, cioè ogni dipendente comunale deve avere la consapevolezza del ruolo che esercita, quindi nel rapportarsi con il cittadino, nel dare il massimo di chiarimenti, di informazione al cittadino e soprattutto nel comportarsi secondo regole e secondo comportamenti, secondo la legge. Ecco, allora il fatto di avere organizzato questa assemblea nella quale ogni dipendente comunale ha sottoscritto un impegno formale pubblico non è un fatto, diciamo così, di cerimonia, ma ha un suo significato preciso di impegno pubblico da parte del singolo dipendente che riveste un ruolo importante all'interno della comunità. E in questo senso vuole anche essere un segnale da dare al territorio, un segnale da dare al cittadino. Non possiamo, ecco, rispetto a questi fatti, avere un abbassamento di tensione. Si tratta sicuramente di fatti che vanno, come dire, di responsabilità personali. La responsabilità penale è personale, va perseguita. In questo senso la fiducia nei confronti della magistratura è una fiducia totale, incondizionata. La magistratura opera seguendo, perseguendo la legge, o meglio, perseguendo i reati che vengono fatti in dispregio della legge. E siccome oggi la magistratura rappresenta, dico purtroppo, nell'ordinamento giuridico italiano, l'unico organo di controllo che è realmente rimasto e che chiaramente svolge una funzione di controllo di natura penale che assorbe qualunque altro vizio di natura, diciamo, di legittimità degli atti. Perché dico questo? Perché fino a qualche anno fa noi avevamo come funzioni, come organi di controllo degli atti amministrativi, avevamo le cosiddette commissioni provinciali, le cosiddette commissioni regionali di controllo, che comunque rappresentavano sempre un deterrente e per i politici e per gli amministratori nel comportarsi secondo procedimenti e procedure di legge. Quando il legislatore prevede di abolire queste funzioni, abolire questi organi per dare maggiore speditezza al procedimento amministrativo, ebbene, alla magistratura vengono anche delegati questi compiti, queste funzioni, diciamo, di controllo. Anche su questo vorrei essere chiaro e per questo va sostenuta e va assolutamente preservata da qualunque tipo di giudizio che possa fare entrare la magistratura dentro l'alveo dei condizionamenti politici. Questo è un errore catastrofico che fa cadere tutta l'impalcatura di un ordinamento giuridico. No, dico questo per essere anche molto chiari e senza volere, come dire, per nessun motivo fare, come dire, ammenda di mie presunte responsabilità in ordine al controllo di queste vicende. E voglio ricordare le dichiarazioni in questo senso fatte proprio dal procuratore della Repubblica, il quale ha affermato chiaramente come questi fatti vengono alla luce grazie alle tecniche investigative che sono state messe in atto e quindi le intercettazioni ambientali, telefoniche. E non vi è stata una sola denunzia da parte dei cittadini. Vedete, io ogni giorno incontro i cittadini che mi sollecitano nella legittimità dei comportamenti, le proprie pratiche, per cui, come dire, il contatto diretto ce l'ho, allora io chiamo il funzionario dicendo ti sta venendo a trovare il signor tizio che ha questo problema, vedi com'è la situazione. Guardate, in questi anni di mia amministrazione, tutte le persone che ho incontrato, non c'è stato uno, dico, non c'è stato uno che mi abbia detto, vedi che in quell'ufficio, in quel settore o quella persona si comporta in questi termini. Voi comprenderete come... C'è un clima di omertà, questo lo dobbiamo dire, è un po' un limite di tutti gli agrigentini. Dico, voi comprenderete come... Lamentarsi però poi non dare nulla per rimediare. Il punto è proprio questo, cioè voi comprenderete come poi diventa difficile poter agire autonomamente senza che si aspetti, diciamo, il momento patologico, il momento dell'intervento della magistratura. In questo senso, ecco, io ritengo che un momento di crescita e soprattutto un momento di condivisione, di riflessione, vada fatto e vada fatto fino in mondo, come i cittadini, come amministratori, come politici. Quando lei si è candidato alle precedenti elezioni ed è diventato poi sindaco della città di Agrigento, ha in un certo senso creato tanta aspettativa, ha dato tante speranze giovani, col suo slogan un sindaco all'isopra dei partiti. Uno slogan che ha infervorato tutti. Poi in questi anni ovviamente sono successe tante cose, si è dovuto confrontare con tante problematiche. Adesso so che lei si ricandiderà alle prossime elezioni, quindi non le faccio la domanda, rifarebbe tutto da capo. Cosa risponde? Guardi, sono... Ecco, ci sono alcune persone con le quali mi confronto, mi vogliono bene, che proprio ripercorrendo questi anni sottolineano come veramente sono stato intriso da una sana incoscienza che mi ha portato ad affrontare le emergenze, i problemi drammatici che abbiamo avuto. Ma questo l'ho fatto con grande, come dire, senso di... veramente di amore nei confronti della città. Per questo vuole continuare ricandidandosi. E dentro di me c'è, nonostante i problemi che ci sono stati, c'è sempre dentro questa passione, quest'amore che mi porta ancora a servire, a volere servire questa città. Sicuramente, ecco, rispetto al momento mio dell'elezione, come dire, in questi anni in cui sicuramente avrò compiuto anche degli errori, però oggi guardando, ecco, indietro, facendo, diciamo, un veloce sguardo all'indietro, ho la serenità di chi comunque sì ha commesso errori, ma li ha commessi in buona fede. Cioè, tutto quello che io ho fatto, l'ho fatto per riuscire a... nella consapevolezza di quella che era la drammatica situazione della città, nel riuscire a dare risposte ai problemi, ecco. Magari mi sarei aspettato, mi sarei aspettato, ecco, un maggiore sostegno da parte di uomini politici, delle forze politiche, però poi, come dire, ho fatto anche di questa illusione, me ne sono dato una ragione, cioè, del fatto che, purtroppo, poi la vita politica è questa. Porta in faccia nelle ricevute single. Eh sì, non c'è dubbio, dico... Ma più che altro, sai, sono stati momenti di crescita, momenti di crescita significativa, soprattutto su un piano personale. Quando, dicevo prima, una sana incoscienza che ti porta ad avere un grande entusiasmo, che ti porta ad affrontare i problemi con una energia senza fine, e che mi ha aiutato tantissimo, però veramente, a superare le tante emergenze. Accanto a questo, il fatto, dicevo, parlavo prima delle illusioni, cioè, no, poi tu, quando ti misuri con i problemi, guardi in faccia la realtà nella sua crudezza, e quindi, magari, quella rappresentazione che avevi prima, o del fatto di poter avere il consenso, o il sostegno anche di altri, che poi nei momenti cruciali non hai, ecco, sapete, sono cose brutte, che in quel momento magari ti colpiscono, però chiaramente cammin facendo ti fanno più forte, poi tu hai la forza, ecco, di fare tesoro di queste esperienze, e quindi poter andare avanti tranquillo. Ma la cosa importante è stata in questi anni, quella alla fine, ecco, sempre comunque di poter dormire la notte tranquillo con la coscienza a posto. Siamo alle battute finali, ci avviciniamo alle festività natalizie, sarà anche questo purtroppo un Natale abbastanza austero, vista la crisi che riguarda un po' tutti i settori dell'economia. Qual è l'augurio suo personale per la città di Agrigento, per i suoi concittadini? Guardi, c'è una bellissima lettera che ha fatto il Cardinale Bagnasco nel mese di ottobre a Todi, che io proprio vorrei regalare a tutti gli agrigentini. Ed è una bellissima lettera, che chiaramente chi ha fede, chi crede, chi ha una fede cattolica la potrà apprezzare fino in fondo, che fa riferimento all'episodio di Pietro nel lago di Galilea, nel quale scende nelle acque e in quel momento le acque cominciano a imbizzarrirsi, cominciano le acque ad agitarsi. Allora, la spiegazione che il Cardinale Bagnasco, in una bellissima lettera, in questo intervento a Todi fa, è la seguente. Dice, nel momento in cui hai avuto paura, hai avuto paura perché hai distaccato lo sguardo da Dio, da Gesù. E' stato quindi il fatto del... hai avuto paura nel momento in cui ti è venuta a mancare la fiducia, la fede in Gesù e in Dio. E questo ha fatto sì che tu quindi vedessi il mondo, vedessi le acque che si agitavano, i tuoni, i lampi, la pioggia, la tempesta, che quasi quasi ti travolgesse. Nel momento in cui, invece, tu ritrovi, ecco, hai comunque sempre fisso lo sguardo in Gesù che ti illumina, che è la tua fede, che è la tua forza, che è la tua fiducia, che ti dà il senso della vita, allora tu hai la forza per poter le cose della vita quotidiana, poterle affrontare nella loro difficoltà, nella loro drammaticità quotidiana, però poterle affrontare con uno spirito che fa sì che tu riesci a superare le tempeste, riesci a superare tutto. Guarda, io quello che io auguro veramente a ogni agrigentino è questo, anche in questi momenti difficili che si stanno affrontando, però quello di poter avere la forza, la fede, di poter superare, perché alla fine vince Dio, vince Gesù, e quindi alla fine vince l'uomo che crede e l'uomo che ha fede. Anche noi ci uniamo a questo suo speciale augurio per la città di Agrigento, la ringraziamo per essere stato nostro ospite. Grazie, grazie di cuore e buon Natale. E con voi invece ci rivediamo la prossima settimana, arrivederci. , grazie a tutti. Grazie a tutti.